Ci sono delle epoche nel mondo in cui i padri degenerano e si uccidono i loro figli, compiono dei regicidi. E adesso? Per pregare Dio non va più in fabbrica! E magari pregasse solo Dio! E' malato, solo un malato si comporta così! Si sfoglia nudo al buio, sta delle ore nudo sul pavimento, prima di dormire e prima di cominciare la giornata fa mille cerimonie come un selvaggio, pare che Dio sia una cosa da scongiurare! Sono dunque qui, qui, ai piedi della tua giovinezza. Posso ora chiedere un favore? Partito da risolvere un enigma! E' questo che un padre di solito vuole ignorare del figlio per cui lo odia! E io invece è per questo che ti amo, padre del genere!